il professionista che vince top legal industry awards per private equity quest'anno è gianni martoglia dello studio gatti pavesi bianchi eccolo collegato con noi gianni martoglia buonasera avvocato foto di rito e motivazione professionista dall'elevato accume ottimo negoziatore pragmatico e rigoroso con queste caratteristiche si è aggiudicato i consensi per l'assistenza a un consorzio di fondi nell'acquisizione di engineering ingegneria informatica anche qui un premio cosa cosa ci racconta di questo premio allora buonasera a tutti grazie innanzitutto al top legal e alla per questo premio ma assoluto un grazie va a tutto il mio team che mi ha aiutato in questo importante in questa importante operazione cosa devo dire è un premio per il lavoro che abbiamo fatto fino adesso per un lungo percorso che abbiamo fatto ma in un momento così per noi è anche uno stimolo per fare ancora meglio per continuare sulla strada che abbiamo percorso fino in questo momento grazie a tutti